Musica Benvenuti al TG10, ci occupiamo dell'apertura della Porta Santa all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, il Vescovo della Diocesi di Piazza di Medina, Monsignor Rosario Gisana, rivolge una preghiera alla collettività locale interessata da una profonda crisi occupazionale. Vediamo. Apertura della Porta Santa della Cappella dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, oggi tra le emozioni dei presenti, un momento assai significativo e partecipato. La porta è un importante simbolo, richiama il passo evangelico di San Giovanni. Io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà Pascolo. L'apertura della porta è anche simbolo del cuore misericordioso di Dio, dischiuso nel fianco aperto di Cristo sulla croce. La ragione perché ho voluto anche in questa sede aprire una porta, una porta santa, ma diciamolo più specificamente una porta della carità, è perché propriamente vorrei far capire che non soltanto ai malati è data la possibilità di poter vivere questo momento giubilare, ma anche a chi non è malato, di, visitando le persone bisognose, le persone malate, trovarsi nella disposizione di poter attraversare una porta, la porta santa. Che la porta santa non è un luogo fisico, anche se alla fine viene considerato tale, ovviamente, per motivi logistici, ma è legato all'esistenza delle persone. Quanti di noi facciamo del bene, tendiamo la mano ad una persona che ha bisogno, che si riesce ad accogliere, ad accudire, a mostrare affetto. Allora, in questo modo noi viviamo non solo il giubileo della misericordia straordinario, proprio per questo motivo, perché il loro noi attraversiamo la porta santa, per cui anche il lucrare le indulgenze, in questo caso, è legato effettivamente ad un gesto materiale di visita, di attenzione, di ascolto, di cura della persona. Subito dopo l'apertura, il Vescovo e tutti i fedeli hanno marcato la porta della misericordia. Essa evoca il passaggio che ogni cristiano è chiamato a compiere dal peccato alla grazia, confessando che Gesù Cristo è il Signore. Oggi, all'importante iniziativa, erano presenti il direttore generale dell'ASP, il direttore sanitario dell'ospedale, il sindaco e tutto il personale medico e paramedico. Alla fine della cerimonia, il Vescovo ha preseduto la solenne celebrazione eucaristica con la benedizione ai malati. Eccellenza, siamo alle porte della Pasqua. Il suo augurio per questa città intera che vive un momento di assoluta crisi, non soltanto materiale, ma probabilmente più che prima di ogni cosa, spirituale. L'augurio più grande che le famiglie, anzitutto, possono trovare la gioia di poter condividere assieme, non solo questi giorni di festa, ma sempre, condividere assieme il pane che viene guadagnato con il sudore della fronte. Gli ultimi episodi criminosi che si sono registrati a Gela, furti e tentati furti ai danni di attività commerciali, hanno indotto il presidente della Confcommercio Ascomo, Francesco Trenito, assieme a Roccopardo, confesercenti e ad Antonio Rubio, casa artigiani del Golfo, a chiedere un incontro col prefetto di Galtanissetta finalizzato a trattare il problema della sicurezza in città e nel centro storico di Gela, dove continuano ad essere perpetrati numerosi furti e danneggiamenti ai danni dei commercianti, la cui attività ha sede lungo il corso Vittorio Emanuele. E la sezione Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, chiede al prefetto di inviare più forze dell'ordine sul territorio. A seguito della crisi economica, della disoccupazione galoppante, oltre della forte presenza di immigrati ospitati in città, si legge in una nota, è facile intuire che Gela è più esposta ai reati predatori. Fratelli d'Italia si rivolge pure al sindaco messinese e all'amministrazione per attivare da subito tutte le videocamere di pertinenza comunale. Blitz anti-abusivismo commerciale a Gela da parte dei vigili urbani, diretti dal comandante Giuseppe Montana. Passati al setaccio, gli ambulanti delle vie Tevere e Recanati. L'operazione ha portato al sequestro di quasi due quintali di ortaggi e verdura e sono stati elevati circa 650 euro di sanzioni amministrative. Cambiamo argomento e adesso occupiamoci dell'inaugurazione dello sportello Angelas a supporto delle donne e dei minori vittime di violenza. Sorge nei locali comunali al terzo piano di Viale Mediterraneo. È stata scelta simbolicamente la data della giornata delle donne per attivare al comune di Gela lo sportello Angelas a supporto delle donne e dei minori vittime di violenza. Il nostro inaugurale è stato tagliato dal sindaco Domenico Mersinese e dall'assessore comunale ai servizi sociali Licia Abela nei locali al terzo piano di Viale Mediterraneo. Il progetto nasce per fornire una risposta adeguata ed integrata con i servizi locali ai destinatari degli interventi, un adeguato supporto informativo ed un corretto accompagnamento guidato ai servizi operanti sul territorio. In collaborazione con le forze dell'ordine fornirà riscontri alle donne in situazione di rischio immediato per la propria incolumità ed esiterà le richieste di cittadini che desiderano informazioni sui servizi parenti o amici di vittime, che desiderano indicazioni o suggerimenti operatori dei servizi che necessitano di indicazioni sui centri servizi presenti nel territorio. Una possibilità, una porta, una porta che può indicare la luce a molte persone che vivono sicuramente un periodo buio. Lo sportello Engelas è uno sportello per la violenza di genere e di tutti i tipi, parliamo non solo per le donne ma anche per i bambini, per gli anziani, per gli omosessuali, per tutte quelle persone che vengono discriminate per qualsiasi motivo, per razza, colore, sesso. È un segno di civiltà per poter tutelare quelle minoranze, per tutelare le persone più deboli, che normalmente vengono sopraffatte da coloro che si sentono forti, che in realtà forse sono proprio loro i più deboli, però torturano degli esseri umani, a questo non è possibile. È importante sapere, è importante sapere, qua non stiamo facendo denunze, noi qua stiamo facendo prevenzione, stiamo facendo, stiamo dando una mano per poter dire alle persone che si può uscire da determinate situazioni e che non si è obbligate. Quindi quando non facciamo, non è importante la denuncia, ma è importante la prevenzione. Altri servizi previsti sono l'accoglienza telefonica ed il primo orientamento sugli strumenti di tutela contenuti nelle normative che si riferiscono alla violenza contro le donne, la predisposizione e l'immediata attivazione di uno scenario di protezione per l'emergenza, effettuando una prima valutazione del rischio, l'accompagnamento guidato verso i servizi del territorio e l'attivazione delle consulenze idonee al supporto del percorso progettuale, legale, psicologico, orientamento al lavoro, salute, figli, figlie, sia a denti pubblici che privati. La violenza è un atto di suppruso, un atto indegno di essere perpetrato e quindi riteniamo che questo servizio di supporto possa essere un vero valore aggiunto per la città e un supporto valido nei confronti del settore servizi sociali che si occuperà di essere il punto di unione tra il cittadino e le istituzioni. Il Soroptimist Club, la FIDAPA e l'Interquil oggi in occasione della giornata internazionale della donna organizzano una serata al Cineteatro Antidodo in cui si svolgerà la rappresentazione stanotte Dormo Tranquilla di Giuliana Frajica. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza. La giornata delle donne vista con gli occhi dei bambini, degli alunni è il progetto fortemente evoluto da Maurizio Tedesco, dirigente scolastico del comprensivo Salvatore Quasimodo. Un momento di riflessione che ha coinvolto, come dicevamo, studenti e docenti. Già a partire dall'anno scorso tutta la nostra scuola elementare è stata coinvolta in questo progetto che si intitola Essere con gli occhi delle donne che appunto vuole promuovere una riflessione sul tema della parità di genere, dell'uguaglianza dei diritti fra uomini e donne soprattutto tra i bambini perché è proprio correggendo delle cattive abitudini che forse si assumono a volte in famiglia che si può realmente promuovere la parità tra uomini e donne. Ma ci sono queste cattive abitudini come lei sottolineava in famiglia? Io credo di sì, ancora noi soprattutto al sud Italia penso che viviamo questo retaggio culturale e soprattutto credo che si debba mirare non tanto alla capacità delle donne di potersi proporre quanto soprattutto si deve mirare ad una riflessione articolata degli uomini sulla importanza della parità di genere perché probabilmente spesso siamo noi impreparati diciamo rispetto a questo argomento. Nel corso delle iniziative di oggi sono stati esposti vanno fatti dedicati interamente alle donne. L'avvocato Giovanna Cassarà, responsabile locale di UDI, Unione Donne Italiane. E io veramente ringrazio le scuole per farsi promotrici di questi valori importanti quali quello del rispetto della donna soprattutto attraverso i bambini più piccoli come oggi la scuola brillantemente retta da Maurizio Tedesco ha voluto fare proponendoci l'invito di volere dare il nostro contributo oggi che noi come donne dell'UDI festeggiamo il settantesimo anno dalla conquista del diritto al voto. Ma oggi è un giorno di festa o è un giorno triste? Ma io ho sempre ritenuto che non si debba parlare di feste ma di giornata di riflessione e di confronto tra le donne e tra le donne e gli uomini però voglio propormi in maniera positiva dicendo che deve essere anche una festa per le conquiste che abbiamo fatto tra cui appunto quella del suffraggio universale e per tutto quello che ci proponiamo di fare e quindi le donne insieme agli uomini perché gli uomini sono complementari ed importanti dobbiamo festeggiare questa giornata speciale. E oggi dalle 17.30 nei locali di Palazzo Pignatelli è prevista l'iniziativa Artisticamente Donna curato dall'associazione Monnalisa di Rita Castellano numerose donne di Gela e del comprensorio tra pittrici, artigiane e fotografe esporranno le proprie opere d'arte ed i propri manufatti prevista anche l'esposizione di decorazioni artistiche e culinarie di Sonia Iraci domenica 13 marzo alle 18 sarà ospite la scrittrice Silvia Scolla con una rilettura del proprio romanzo Il mistero del gioco dell'oca Porta aperta questa mattina nell'unità di raccolta sangue in occasione della festa dell'8 marzo un gesto speciale qual è la donazione della sangue che ha visto la presenza di numerose donne i medici e gli infermieri diretti dal responsabile della struttura sanitaria Antonio Moscato hanno offerto la loro disponibilità a tutte le donne che si sono recate a donare Un giorno importante per loro un giorno che comunque celebra la loro importanza nella società e la conquista dei loro diritti che comunque sono chiaramente legittimi il fatto di donare il proprio sangue il fatto di compiere questo gesto altamente civico un gesto importante è un gesto anche d'amore e testimonia il fatto della loro importanza nella società volevo anche trattornare anche questo la donna di per sé è una donatrice di vita perché comunque la donna partorisce i figli dà la vita ai propri figli questo è un ulteriore modo di dare vita a qualcun altro dando il proprio sangue quindi consentendo alla gente che ha bisogno di poter continuare a sperare di vivere e continuare a vivere in maniera gioiosa la propria vita io sono una donatrice da quando avevo 18 anni sono figlia di donatori mio papà e mia mamma lo erano quando donare sangue era un evento straordinario e mio figlio che sta per compiere 28 anni è anche lui donatore e la nostra piccola di casa oggi compie 18 anni e ha nel cuore di venire a donare anche lei noi doniamo il sangue perché pensiamo a quelle persone che non sono conosciute noi come famiglie siamo molto conosciuti abbiamo avuto in tanti momenti la solidarietà di tante persone la vicinanza e allora ci premuriamo a farlo proprio per coloro che sono sconosciuti se possiamo realizzare una goccia di bene perché non farlo la sezione locale dell'ADAS ha donato un simpatico gadget a tutte le donatrici il festeggiamento della donna merita come risposta a questa giornata un piccolo gesto che può diventare un grande dono a coloro i quali ancora non hanno donato qual è il consiglio che diamo? di venire a donare perché a tutti serve il sangue a tutti noi noi diciamo pensiamo a noi non ci può capitare invece capita a tutti purtroppo e questa sera alle 20 nei locali di Palazzo Pignatelli a Gela nell'ambito dell'82esima stagione concertistica gelese è previsto il concerto lirico strumentale con Melissa Minardi mezzo soprano Chiara Occorso violino Cristina Marazzotta Clarinetto Elisabetta Gangitano Flauto Miriana Di Pasquale pianoforte Maria Chiara Pace violino e Nuccia Scerra pianoforte Incontro oggi nell'Aula Magna dell'Istituto Scolastico Ettore Romagnoli si è parlato di bullismo Combattere e contrastare il fenomeno del bullismo se ne è parlato questa mattina nell'Aula Magna dell'Istituto Scolastico Ettore Romagnoli di Gela nell'ambito di un incontro promosso dal dirigente Sandra Scicolone preziosa la presenza dello scrittore Enzo Russo autore di 32 romanzi alcuni dei quali lo hanno imposto come uno degli autori italiani di maggiore professionalità nel campo della narrativa di genere e un riconosciuto esperto di problemi legati alla mafia la conferenza di oggi rientra tra le attività promosse da Russo con la sua associazione Io ho scelto il progetto che ho messo in piedi che attualmente riguarda 27 scuole è quello di il messaggio è dire ai ragazzi il problema del bullismo è vostro e lo dovete risolvere voi quindi noi tesseriamo i ragazzi che credono in questa iniziativa classe per classe i ragazzi eleggono quello che io chiamo scherzosamente un onorevole gli onorevoli tutti assieme formano il parlamentino della legalità eleggono un presidente che ha accesso al preside che ha accesso a me che tiene in che raduna il parlamentino una volta al mese per fare il punto della situazione scuola per scuola nessuno nessuno è mai presente agli atti di bullismo solo i ragazzi non ci sono mai i bidelli non ci sono i professori non ci sono i genitori quindi solo loro infatti io dico sempre ai ragazzi non azzardatevi a iscrivervi a questa associazione se non siete pronti a testimoniare i lavori sono stati moderati dalla professoressa Lalicata noi come comunità scolastica avvertiamo l'esigenza di combattere fenomeni come il bullismo come il cyberbullismo come la violenza soprattutto se esercitata nei confronti delle donne quindi ecco perché per noi era importante oggi dare inizio in una data dopo tutto simbolica per altre ragioni perché legata alla festa dell'8 marzo ma comunque non lontana dallo spirito della nostra manifestazione del nostro atteggiamento volevamo proprio dare inizio così al mese che la Romagnoli dedica alla lotta contro il bullismo dentro e fuori la scuola un consiglio comunale monotematico sulla vicenda del polo oncologico a Gela è quanto chiesto dal comitato dello sviluppo dell'area gelese Gela e comprensorio si legge in una nota sono al centro di un'area dichiarata dall'organizzazione mondiale della sanità ad elevato rischio ambientale nei prossimi 20 anni il costo economico delle cure di queste malattie legate all'elevato rischio ambientale è stimato in alcuni miliardi di euro ciò nonostante ancora oggi leggiamo nella nota i gelesi non possono soffrire nella propria città delle cure necessarie recandosi in altri territori aumentando i disagi alle famiglie e quanto dice Filippo Franzone portavoce del comitato che ritiene necessario un consiglio monotematico che veda la presenza dei parlamentari gelesi del presidente della commissione regionale sanità dell'assessore regionale della salute del presidente della regione siciliana e del direttore dell'asp cl2 al fine di chiarire a tutta la cittadinanza quali sono i criteri utilizzati da regione ed asp per l'individuazione delle unità ospedaliere nel territorio nisseno la richiesta come diciamo parte dal comitato dello sviluppo dell'area gelese nasce poi dalla diffusa notizia dell'istituzione del polo oncologico nell'ospedale di san cataldo piuttosto che nell'ospedale gelese nonostante per malattie tumorali la città presenti una percentuale superiore alla media nazionale ci fermiamo linea alla regia per la pubblicità rieccoci seconda parte del telegiornale è prevista per venerdì 11 marzo alle 17 nei locali della libreria Mondadori di via Marconi 25 a Gela la presentazione del libro Fiammetta di Emanuela Abbadessa dialogherà con l'autrice il dirigente scolastico Sandra Scicolone nel corso dell'incontro si trarà anche una degustazione di dolci offerta dalla ditta Alaimo di Delia e ora la nostra consueta rubrica quotidiana in breve sono pronte e possono essere ritirate all'ufficio di segretariato sociale del comune di Gela le tessere di libera circolazione AST per l'anno 2016 lo ha reso noto l'assessore comunale servizi sociali Licia Abela le tessere danno diritto al servizio di trasporto urbano ed extraurbano agli anziani residenti a Gela che le avevano richieste dopo l'avviso pubblico delle 7 luglio scorso gli uffici di Viale Mediterraneo sono aperti al pubblico da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30 La FIDAPA International di Gela promuove il progetto internazionale Dai luce alla pace a cura della past presidente Angela Incardona Il progetto viene portato avanti a livello internazionale nei 98 paesi dei 5 continenti dove la FIDAPA è presente Il progetto si propone di educare le nuove generazioni alla pace alla comunicazione al dialogo interculturale Il progetto è rivolto ai ragazzi della terza media e vede coinvolti docenti di lettere ed educazione artistica dovranno essere prodotti un disegno che può essere individuale o collettivo con tecniche diverse tra cui carboncino pennarello matita in basso un pensiero di pace ispirato dal disegno i disegni migliori sei per ogni scuola dovranno pervenire entro il 20 aprile prossimo e verranno valutati da una commissione competente i tre disegni ritenuti più significativi verranno premiati nella giornata conclusiva che si terrà nell'ultima decade di maggio prossimo sono previsti premi in denaro è stato prorogato al 15 aprile prossimo al fine di poter usufruire della fioritura primaverile della flora dunale il termine di consegna dei lavori relativi al concorso fotografico le dune gelesi promosso dalla Soroptimist di Gela e rivolta agli alunni delle scuole superiori con l'intento di valorizzare le bellezze e le peculiarità del paesaggio gelese attraverso le immagini le foto inedite devono essere stampate in formato 18x24 e salvate su supporto cd in formato jpeg con dimensioni minime di 3 megabyte e massime di 10 megabyte parla della Sicilia dal punto di vista femminile il film documentario cose di donne che sarà proiettato al cineteatro antidoto il 18 marzo prossimo alle 21 con ingresso gratuito se storie di donne che hanno in comune l'essere nate in una terra fimmina per eccellenza con i suoi miti le sue leggende che si sono avvicendate e sovrapposte nel tempo il docufilm è di Lorenzo Daniele che ha vinto il premio archeoblogger alla 26esima rassegna internazionale del cinema archeologico di Rovereto e tra le donne protagoniste c'è l'archeologa gelese Angela Catania presidente dell'archeoclub giovani continuano gli appuntamenti inseriti nella 82esima stagione concertistica gelese promossa dall'associazione amici della musica Giuseppe Navarra domenica 13 marzo alle 19 al palazzo Pignatelli finì la cello 2 con Alfredo Borzi al violoncello e Tania Cardillo al pianoforte Porte aperte dello stadio Vincenzo Presti agli studenti in occasione della partita di domenica prossima Gela Atletico Campofranco gli alunni delle scuole medie e superiori della città potranno assistere all'importante sfida per la corsa alla Serie D acquistando il tagliando della curva Angelo Boscaglia al prezzo di un euro lo speciale biglietto verrà distribuito direttamente ed unicamente giovedì e venerdì da alcuni collaboratori della società Bianca Azzurra che grazie alla disponibilità dei dirigenti scolastici effettueranno la prevendita il tagliando avrà un colore diverso rispetto agli altri titoli di ingresso allo stadio il gelacalcio invita tutti gli studenti a colorare di bianco azzurro la curva affinché sia una giornata di festa e di gioia per il calcio gelese e adesso parliamo di ciclismo hanno voglia di fare di stupire di confrontarsi con altre realtà sono i componenti dell'associazione sportiva direttantistica velo club Gela si sono presentati nel corso di una cerimonia che si svolta nei locali dell'ex chiesetta San Biagio il ciclismo è la loro passione e loro ce la metteranno tutta per portare in alto il nome della città abbiamo un obiettivo quello di mantenere questo sport nel segno dell'amicizia perché noi non siamo professionisti quindi non siamo ciclisti professionisti pagati siamo delle persone che ci accomuna un solo piacere quello della bicicletta che ci riuniamo la domenica e portiamo avanti questa attività partecipando anche a qualche gara nel circuito regionale regionale tra le province di Caltrensetta Ragusa, Siracusa e Catania noi vogliamo portare avanti un progetto che è nato 25 anni fa perché con l'occasione quest'anno faremo 25 anni dell'associazione quello di portare a Gela una classica di ciclismo quella della festa della Madonna dell'Alemanna che da un paio di anni si è persa per problemi burocratici legati un po' al discorso burocratico però il nostro obiettivo è quello di riportarla infatti probabilmente sarà il prossimo settembre di quest'anno l'altro obiettivo che io con i miei dirigenti regionali mi sono fatto assegnare una gara importante per Gela che porterà un bacino di ciclisti oltre le 100 unità che sarà il prossimo 22 maggio e sarà una tappa conclusiva di un campionato regionale che si chiama il circuito primavera in bici quindi noi per quella data faremo la tappa conclusiva con la situazione delle maglie dei vari campioni delle varie categorie ma all'omento attuale quanti tesserati ha il Veloclub? in questo momento noi abbiamo circa 60 tesserati di cui meno il 50% parteceva regolarmente alle gare domenicali e oltre a questi 60 tesserati aggiungo che abbiamo attrettanti amici magari non tesserati però che ci supportano nelle varie manifestazioni nelle varie attività che facciamo extra extra gare esempio noi ogni anno abbiamo la classica scalata dell'Etna quindi sono invitati tutti tesserati e non tesserati proprio nel senso dell'amicizia per trascorrere una giornata diversa più che altro è una passione sì è una passione la pagina dello spettacolo è Fuocammare il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchidella a Gela sono tre gli orari 17.30 19.30 e 21.30 e domani alle 21.15 al Teatro Comunale Eschilo nell'ambito della stagione di Cabaret è previsto lo spettacolo Tram Tram di Lasciate Libero lo Scarrozzo ci sono due numeri telefonici per informazioni 0933 91 1892 e 345 5880 580 abbiamo concluso anche per oggi grazie e arrivederci a Gela a Gela a Gela a Gela